Un progetto di Open Innovation per stimolare e attivare la cultura della collaborazione e della partecipazione attiva, un modo per costruire una comunità di utenti capaci di costruire una visione comune dell'aeroporto del futuro. La GESAC, Società di Gestione dell'Aeroporto Internazionale di Napoli, ha presentato nella Sala Saffo di Città della Scienza il progetto SMART, che vedrà la costruzione di un aeroporto innovativo in grado di offrire una smooth, memorable, authentic experience in travel, ossia una nuova tipologia di esperienza di viaggio. Un tentativo questo di sviluppare servizi e attività creative allo scopo di migliorare l'esperienza del passeggero e la qualità delle infrastrutture aeroportuali. Ne racconta ai nostri microfoni Armando Brunini, amministratore delegato di GESAC. Lo abbiamo voluto noi, ci siamo sempre più aprendo in generale al territorio, quindi anche su questa dimensione che è quella dell'innovazione, l'innovazione per il nostro passeggero, che per noi è sempre al centro delle nostre attenzioni il passeggero e la sua esperienza, vogliamo aprirci a tutte quelle comunità di innovatori e quindi Città della Scienza per forza di cose è un partner privilegiato e cercare buone idee che se le riteniamo poi buone fino in fondo magari le realizziamo proprio in aeroporto. Un progetto avallato dalle istituzioni e che ha visto la presenza all'iniziativa dell'assessore all'innovazione della regione Campania, Valeria Fascione. Sono veramente molto attratta e incuriosita da questo progetto, proprio in linea con la strategia di rilancio dell'innovazione che come Giunta De Luca, come regione Campania stiamo lanciando, cioè quella di connettere i grandi player del territorio con la comunità di creativi, di start-upper ma anche di ricercatori che possono proporre delle soluzioni, dei prodotti, delle idee innovative in risposta ai fabbisogni di innovazione, appunto in questo caso dell'aeroporto di Napoli. Per Città della Scienza è intervenuto il consigliere delegato Vincenzo Lipardi. L'idea smart di questa valigia lanciata dall'aeroporto di Napoli e quindi delle attività legate all'innovazione che sottende dimostra che l'aeroporto, chi lo visita e chi lo utilizza, sa che l'aeroporto di Napoli è uno dei più belli d'Italia e è una risorsa importante non soltanto per il turismo, che è una risorsa fondamentale della nostra città ma soprattutto per far diventare la nostra città un punto di incontro per il turismo d'affari e Napoli ha bisogno di innovazione, ha bisogno di portare tante persone importanti in questa città per costruire un'economia basata sulla conoscenza.